Ciao, mio nome è Francesco, sono 3D artiste co-founder, una squadra molto motivata nata per sviluppare una nuova generazione di soluzioni elettroniche creando innovazioni ai 3D printeri per i creatori e i professionisti. Dopo un anno di ricerca e sviluppo, siamo iniziati a lanciare il nostro primo prodotto, l'alligator board. Cada membro del team 3D artiste ha molti anni di esperienza nel design di soluzioni elettroniche. La potenza computazionale offerta da l'alligator board è la migliore soluzione per il più exigeno 3D printeri e suitabile per le architecchie del DELTA. Tutti connessioni sono scelte per garantire le migliori elettrici, termali e meccanici funzionali, per evitare la blocchia di piccoli. 4 stepper motor drivers con filmer selectable step size e motor current sono disponibili. Le analoge input sono definiti per ottenere un'attività e precisa di temperatura. 2 stop stop per ogni axis possono essere collegati a la board, che è anche equipato da un dual output cooling fan controller. Various expansion interfaces are supplied. 3 generic PWM outputs 2 independent USB interfaces Raspberry PI connector reader Ethernet port Micro SD card slot Expansion connector for display or other custom add-on With the optional expansion piggy you can Drive up to 3 additional stepper motors Control up to 3 additional heaters Read up to 3 temperature inputs The alligator board is entirely designed and produced in Italy. The alligator board is entirely designed and produced in Italy. The alligator board is also designed and produced in Italy. The alligator board is a Grazie a tutti. Grazie a tutti.